Ad incastrarlo sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo hanno immortalato poche ore prima dell'attentato mentre effettuava un sopralluogo per scegliere il punto migliore da colpire. È stato così arrestato il presunto responsabile che nella notte tra il 6 e il 7 gennaio lanciò una bottiglia Molotov contro la stazione dei carabinieri di Pergine Valdarno. Nell'incendio andò completamente distrutta l'auto di servizio dei militari e fu gravemente danneggiata la facciata della caserma. Solamente l'intervento dei vigili del fuoco evitò conseguenze ben peggiori. Le manette sono scattate questa mattina all'alba per un diciottenne del posto indagato per i reati di incendio, fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra, nonché di scoppio di ordigno al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica. Le indagini sono andate avanti per mesi ed hanno permesso di accertare adesso che il diciottenne quella sera aveva effettuato un sopralluogo di fronte alla caserma. Per renderlo meno sospetto, il ragazzo il 7 gennaio aveva anche effettuato una lunga telefonata verso il numero 119 per poter così transitare di fronte alla caserma senza dare nell'occhio e per valutare la posizione delle telecamere. Da quanto emerso dalle indagini, inoltre quella sera il giovane aveva raggiunto un benzinaio poco distante e privo di sistema di videosorveglianza. Aveva acquistato della benzina, riempito una piccola tannica ed infine fabbricato la Molotov. In seguito alle intercettazioni poi i carabinieri hanno anche accertato che il diciottenne aveva confessato l'accaduto ad alcuni conoscenti di famiglia. Le motivazioni del gesto sarebbero riconducibili al forte risentimento che il diciottenne nutriva nei confronti dei carabinieri e in particolare dei militari di Pergine Valdarno che più volte lo avevano denunciato per atti di teppismo. Grazie. Grazie.